Si tratta di un provvedimento legittimo, esordisce così il vice sindaco di Pescara rispondendo alla polemica scoppiata alla notizia dell'abolizione della sosta gratuita in centro a Pescara e spiega le sue ragioni. Quello che invece noi vogliamo riportare al centro dell'attenzione è la valorizzazione del bene del patrimonio pubblico che è il suolo. Il suolo va valorizzato attraverso una forma che è quella del pagamento. Non se l'è inventato il comune di Pescara, esiste dappertutto, pur garantendo una percentuale di stalli di libera sosta per le funzioni minime di tutti. Questi stalli sono ampiamente, ma dico ampiamente, nei numeri garantiti e ci sono quei pochi stalli riferiti alla sosta a pagamento. Verranno rispettate le percentuali da garantire sul numero di sosta gratuita, contrariamente a quanto annunciato dall'opposizione. Si tratta di una misura per ottimizzare gli spazi pubblici e metterli a frutto anche per le esigenze economiche del territorio. Per fare qualcosa in più abbiamo ritenuto di andare incontro ai residenti attraverso un abbonamento minimo di 15 euro. 50 centesimi giornalieri credo che non siano una cifra esorbitante per potersi garantire il parcheggio anche degli stalli a pagamento. È una misura che riteniamo assolutamente di buonsenso, che abbiamo esteso su tutto il territorio in modo che vengono meno tutte quelle situazioni particolari. Io parcheggio da una parte, da un'altra gratuitamente e quindi riconduciamo tutta una normalità e una gestione all'insegna della valorizzazione del patrimonio pubblico.